secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie rivoluzioniamo 5m sentite questa qua che userà anche l'fbi inserita possibilità di tracciare una sim per la polizia grado minimo deve essere un tenente ma va autorizzato dal comandante quindi io quindi senza la mia autorizzazione non è assolutamente valido bella broschi grazie per cento bello mio grazie di cuore avete fatto partire il trenino una cena tutti insieme mi sembra molto bello perché comunque gli ultimi quattro mesi della mia vita insomma li ho passati più con voi che con chiunque altro quindi perché non dedicarvi insomma un po della mia del mio compleanno quindi facciamo la cena insieme ci sarà una seggiolina pertina e una seggiolina per mio abbiamo preso le ostriche che sono il mio cibo preferito in assoluto e niente mangiamo tutti insieme ho fatto installare un deposito della centrale quindi da questo momento fate passaparola ogni arma ogni oggetto che viene sequestrato dovrà essere messo in quell'altro deposito dove si può mettere ma non si può prelevare ricevuto esatto dovete usare blocco lo rosso chiunque depositi all'interno dell'altro deposito sarà sotto sanzione disciplinare perfetto ok così non si può e ne pagherete le conseguenze perché io voglio responsabilità perché non stavo facendo questo nostro cusciano ma se non avete trovito fatti due Che ho fatto? Madonna mia ma che figa Che figa della Madonna Chi è? Chi è lei signore? Lei è una figa clamorosa, è bellissima Come ti chiami? Bella Fatti i cazzi tuoi, stai zitto Cali, minchia come ti calerei Tutta dentro la mia gola Orca miseria Come una droga, ottimo Stai zitto Adesso, adesso, adesso Fatti uno Fatti due, fatti due Mamma mia regà, il male Fatti quattro, fatti quattro Ho finito le munizioni Sottra me e Niklitz In realtà avete già richiesto un altro avvocato Vabbè, io ero venuto con Callaway Ad ogni modo non mi preoccupa il processo Anche perché, ripeto Oggi non c'era un avvocato Non c'era il giudice E ovviamente Entrano in gioco tutti quei Questa roba E' Antonio Cote Se c'è di me L'ascendo lo sanno Antonio Cote Nostro capitano Frank, per fuori Puoi dire Deve non urlare Sì E niente Dani Caricate l'Arcade Del catcafè La pizzeria E le due Tu stai dicendo Che Dario Tu stai dicendo Che Dario Conosce il regolamento D'impero Dario Martis C'è lo stesso Dario Che conosco io Stai sicuro Di questa affermazione M Ninjo Come stai Mo scancio le 1500 Ma mi puoi far passare La luce Oh cazzo Ma Aiuto Aiuto Ma siamo seri? No vabbè Scusami eccomi Andiamo 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 Non piangere Non piangere Faccio Allora Mi fai il favore Che la fila di bottone Ci sono Ok Prova Eh scopriamo Che tu non è Quale Muoio male Che Qual è il tuo gruppo Sanguigno No 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 Avevano in tre Uno Stai Nel Glitch Stai Mi ha fatto E' una base nostra Eh vabbè dai regà Ho fatto da un'altra Oddio Oddio che ho fatto bravo? eh, mi due è proprio la foto del collo adesso mi due un ora, adesso mi due un ora un altro da me bravissimo un altro mito, un altro mito, un altro lì, lì, sempre lì guardami due ora